due, uno, live. Ciao a tutti, bentornati sul canale della Traffola Academy. Come ogni mercoledì siamo in compagnia di Sergio Mustica, il nostro micologo di fiducia. Ciao Sergio, bentornato. Ciao Davide, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Sergio, buonasera anche Andrea Peccolo, Francesco Cicare, Dario Caricola, Asia, ciao, Davide Toso, buonasera anche a te. Allora, c'era, prima di partire ringrazio, mi stavo dimenticando gravissimo, tutti i Patreon di Traffola Academy che sostengono il canale tramite la piattaforma Patreon, patreon.com e tutti coloro che stasera vorranno anche contribuire al sostegno del canale, dei nostri contributi. C'è un disegnino con un dollarino sotto la stringa dove potete lasciare i vostri commenti qua in chat, cliccando là sopra potete fare delle piccole grandi donazioni per sostenere i contenuti che andiamo a creare tutte le settimane con la Traffola Academy che sono liberi ma non gratuiti, comunque ci sono delle spese da sostenere per produrvi e qualche, ogni piccolo contributo aiuta la vita del canale. vi ringrazio in anticipo, vi ricordo anche che già durante la diretta se il contenuto vi piace potete lasciare un like e quindi cliccando sul pollicione là sotto e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale che riceverete tutte le dirette. Non mercoledì scorso che abbiamo saltato ma due mercoledì fa insieme a Sergio abbiamo fatto una diretta che è piaciuta molto ed è stata molto interessante sulle piante simbionti del genere Quercus e poco dopo ho ricevuto una mail da Monica Mussinatto che mi diceva ma perché non fate una bella diretta rispetto alle piante che ci devono chiedere quando faremo l'esame del tesserino l'ho proposta a Sergio Sergio mi ha detto guarda in una sera fare tutte le piante è complicato quindi potrebbe essere una prima puntata ma l'ispirazione è stata quella intanto Gianluca Anti Urban Man ciao Donatella Bencini benvenuta Luca Pacini Walter Chiocci Luigi Spinosa buona sera a tutti vi ricordo anche Laura Gironi ciao che sempre in ottica di formazione 19 20 marzo ci sarà il prossimo stage della Dertona Truffle Academy sulla canalizzazione sul tartufo evitamento degli invasivi e un po' tutto quello che riguarda il la cerca del del tartufo ci saranno delle parti teoriche delle parti pratiche se siete interessati contattatemi vedo che qua in chat ci sono dei veterani già dei degli stage della Dertona Truffle Academy se volete lasciare un commento fate pure allora Sergio da cosa partiamo stasera allora intanto grazie a tutti che ci seguite buonasera a tutti sì come come anticipavi tu Davide le piante simbionti rilacciandoci anche alla scorsa diretta sono importanti perché comunque sia andare a a trovare i tartufi significa andare a cercare con i propri ausiliari con i propri cani un fungo ipoiceo che stringe le simbiosi con delle piante eh arbustive quindi conoscere le piante sicuramente aumenta di molto le probabilità di andare a scoprire eh le zone d'artufficine per chi ha le prime armi quindi la conoscenza la conoscenza delle piante è una cosa che chi si avvicina a questo mondo eh volente o nolente prima o poi deve iniziare ad apprendere ed è propedeutica e funzionale ad andare all'incontro con il tartufo Sergio direi anche importante per chi ha le seconde armi non solo per chi ha le prime vabbè comunque perché le seconde armi dico sempre che allora un buon un buon cercatore di tartufi come un buon cercatore di funghi deve essere un pochettino anche un buon riconoscitore di piante mh le piante che dobbiamo andare a riconoscere di base e di fatto anche sulla base della regione in cui viviamo non è che sono moltissime e quelle però che mh vanno a stringere maggiormente micorrizia con i tartufi più preciati e con i tartufi che andiamo a cercare le dobbiamo conoscere bene e imparare a riconoscere perché eh non si può sempre pensare di appoggiarsi al consiglio del vecchietto che c'ha la sciatica e non si può fumare più e ti dice il posto ma bisogna spesso mettersi gli scarponi stringerseli bene e prendere tanti cappotti in montagna prima di trovare una tartufaia o un buon posto per i tartufi quindi di sicuro perché comunque anche il vecchietto è una rarità eh e poi il vecchietto che dice la verità è ancora più una rarità avessi mai trovato un tartufo io dove mi hanno mandato a cercarli ti giuro allora hai lì che li trovi io sono sincero ma hanno in alcuni casi mi hanno mi hanno insegnato anche dei buoni posti tra l'altro c'era un signore vicino a casa mia quando ero bambino che bambino adolescente che era contento e c'ho questa passione mi ci portava lui c'era un lagotto e un setter e mi insegnava riposti del tuffo nero estivo che ancora mi ricordo che ancora producono è una cosa che ricordo con affetto perché era una persona anziana adesso non c'è più però comunque le persone buone ci sono non sono no 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 beh anch'io ne ho trovate di persone buone ad esempio c'è anche una persona che di solito ci segue qua che è un mio conterraneo che quando mi ero trasferito in questa zona mi ha portato su dei posti buoni un caro amico si chiama leonardo bordino che ci segue spesso anche in in diretta no no persone no parlavo più della situazione da semi bar o il vecchietto all'angolo che divulgata si dice lì ci sono allora il diciamo il il vecchietto con la malattia del tartufo come il vecchietto con la malattia del fungo io vengo dalla provincia quindi bar frequentati a cacciatori tartufai fungaioli li conosco e li frequento da sempre e so che ci stanno le persone che se lo sono il segreto se lo sono portato nella tomba quindi adesso intelligente o meno giustificabile o meno ci sono quindi meglio imparare a conoscere le piante piuttosto che aspettare che qualcuno ci insegni qualche cosa in questo settore dai allora davide se vuoi puoi iniziare a proiettare la scheda con le piante le principali piante simbionti e specie tartufice ne eccola perfetto allora questa qui è una tabella che ho sintetizzato io da varie fonti bibliografiche qui troviamo soltanto angiosperme quindi piante che hanno nella maggior parte dei casi sono cauci foglie e non ho riportato per ragioni di spazio le cimino sperme quindi pini a pedi e quant'altro perché non mi risulta comodo poi magari nelle prossime dirette aggiornano la tabella e le analizziamo più nel dettaglio allora questa sera mi volevo concentrare anche per tenere un pochettino alto il morale dei neofiti su quelle piante che contraggono micorrize con tutti i tartufi che andiamo a raccogliere quindi quelle che conoscerle presso che essenziale per un tartufaio lo evidenziate il rosso anche se in realtà ho preparato tre schede poi vi dirò il motivo anzi io lo anticipo allora il il nocciolo con il nocciolo di bisanzio ha delle differenze macroscopiche però la nocciola è molto simile quindi una volta che uno si trova di fronte a una pianta c'è spugliosa in cui sotto ci stanno dei gusci di nocciole e adesso i piemontesi neanche glielo dico se conoscono le nocciole comunque sia in in tutta italia sono consumate le nocciole come frutta secca le cene di natale oppure per i dolci quindi con riconoscere a terra un un guscio di nocciola è molto semplice quindi adesso andare a vedere le le sottili differenze che ci stanno tra le due tra le due specie ho considerato alla fine vi do la ricetta della crema spalmabile alla nocciola fatta in casa buonissimo se lì mi interessa allora quindi la scheda l'ho fatta soltanto del nocciolo comune che con la nomenclatura binomiale si chiama corilus avellana poi l'ho fatta per l'ostria carpinifolia che il carpino nero un'altra pianta molto importante ai livelli delle delle piante del genere quercus per tutta una serie di ragioni che poi vedremo e poi l'ho fatta per il tiglio più diffuso nella penisola italiana che il tiglio selvatico tiglia cordata anche se con le specie tiglia con le piante scusate con le piante del genere tiglia ci stanno dei fenomeni di ibridizzazione che rendono spesso anche un pochettino complicato andare a identificare di fronte a che tiglio ci stiamo trovando allora per i più tecnici che ci seguono questo elenco riporta le piante principali che tutti dovremmo conoscere che possono essere chieste all'esame per il conseguimento del patentino quindi è chiaro che non si affrontano tematiche quali specie ibride del genere quercus le tematiche legate a sesti di impianto fatti con piante di genere autoctone per evitare ibridizzazioni che sono per carità tutte tematiche molto molto importanti e tra l'altro interessanti a un punto di vista botanico e anche micologico volendo andare a cercare la correlazione tra le due discipline però non credo che sia adeguato discuterne in una diretta di carattere divulgativo come questo quindi penso giusto per i più appassionati e per i più affamati di conoscenza se hanno necessità di qualche chiarimento mi possono scrivere in privato nel gruppo facebook di traffolo academy e gli do tutte quante le spiegazioni del caso insomma poi c'è la promessa anche che condividerà le schede sì sì assolutamente perdonatemi io sto ancora in ufficio quindi spesso mi passano mi passano di mente le cose però diciamo quando conclude quanto concluderemo questa questa scia di dirette sulle piante farò una bella tabellona excel riassuntiva con tutte le piante anche le conifere i cespugli cisto rosso chi più ne ha più ne metta ah no ma mi sa che qui già l'ho messo il cisto sì tanto scusa fammi ringraziare laura gironi per la donazione al canale sì non ti preoccupare avevo capito che era disinteressata non pensavo fosse la caparra per per la stage comunque sì siete benvenuti sempre voi vai allora possiamo cominciare io prima di passare le piante fare un piccolo ripasso su la simbiosi le piante simbionti allora è bene ripeterlo per chi magari ci inizia se ci inizia a seguire da poco per chi si fosse perso le prime dirette in cui abbiamo gettato un pochettino le basi teoriche scientifiche della micologia e i concetti quali funghi che cosa sono i tartufi qual è il loro ciclo vegetativo e come si riproducono allora questa questa spiegazione si allaccia bene alla tematica delle piante perché noi studiamo le piante come abbiamo anticipato in premessa proprio per il fatto che stringono le simbiosi con le specie di tartufo che noi andiamo a cercare per passione per scopi commerciali e per poi mangiarceli perché sono degli ottimi prodotti gastronomici quindi noi andiamo a dobbiamo conoscere le piante perché di fatto dobbiamo andare a scovare le simbiosi tra tartufo e pianta per chi non ci ha seguito i tartufi sono i funghi pocei della sezione ascomicota e i pocei significa che nascono sottoterra e il tartufo è il il frutto di un organismo un organismo fungino che è praticamente dicendo un termine improprio la pianta che dà il frutto tartufo quindi il il tartufo non è la pianta il tartufo non si crea dal nulla non non è una spora che si ingrandisce sempre di più dando un frutto come tante volte ho sentito da persone anziane che non erano molto adotte su queste tematiche il tartufo è il frutto di un fungo e al posto di essere un fungo che cresce che affiora al terreno e che cresce come un porcino come un prataiolo il tartufo resta sottoterra e la diffusione della specie avviene quando il tartufo è maturo inizia ad emanare il profumo caratteristico del tartufo e i vettori naturali che possono essere animali mammiferi o semplicemente ditte rilombrighi e quant'altro andando a cibarsi topi roditori talpe andato a cibarsi del corpo fruttifero che inizia a emettere il caratteristico profumo con la digestione poi e con l'espulsione delle feci vanno a diffondere le spore in giro quindi il discorso del tartufo è un pochettino questo qui e la simbiosi si concretizza con delle micorrize le micorrize sono essenzialmente l'unione tra organismo fungino e apparato radicale periferico delle piante superiori quindi la micorrize come possiamo vedere dalla slide dall'immagine non è nient'altro che una guaina fatta di cellule fungine quindi di tessuto fungino che si chiamano i femigeli o quant'altro che vanno a ricoprire come una guaina gli apparati radicali e penetrano anche all'interno dell'izoderma fino arrivare alla corteccia primaria quindi la prima considerazione da fare è che nonostante il fungo sia un organismo superiore e le cellule dei funghi siano cellule eucariota come quelle delle piante le cellule dei funghi sono molto più piccoli rispetto alle cellule delle piante basta vedere quella sezione di apparato radicale quella bianca è una cellula della corteccia quelle piccole sono tutte quante cellule fungine quindi le dimensioni sono molto più piccole tanto che si vanno insidiare tra una cellula e l'altra questo annidiarsi questo penetrare questo creare questa guaina quindi a tutti gli effetti la micorriza permette al fungo quindi al tartufo quindi la pianta all'organismo che poi darà al tartufo di prendere e di sfruttare parte delle sostanze che le piante producono come tutti sappiamo le piante fanno la fotosintesi quindi da nitrite carbonica acqua sali minerali e luce solare riescono a sintetizzare zuccheri monosaccaridi quali il glucosio e quindi si riescono come dicono ai bambini elementari si fanno il cibo da soli cosa che noi e anche i funghi non sappiamo fare andandosi a nidiare lì vicino le radici il fungo trae beneficio perché prende i nutrienti e la pianta aumenta il potere assorbimento d'acqua e di sali minerali perché praticamente le cellule fungine fanno l'amplificatore del potere captante delle radici questa è un po la parte più teorica spero di essere è stato chiaro per tutti come sempre è chiaro come sempre a meno male se c'è comunque se c'è qualcosa è non chiaro qualche pezzetto vi perdete fate le domande che poi che poi davide me le me le riferisce e se se bisogna rispondere vi rispondo appunto d'accordo quindi con la il ripasso della simbiosi e delle piante simbiosi ci siamo allora andiamo un po più nel dettaglio nelle addentriamoci nell'oggetto della diretta nell'oggetto principale la diretta allora al nocciolo qui c'è un errore di battitura noccioli in realtà è al singolare nocciolo vabbè perdonatemelo il nocciolo è una pianta che si presenta per lo più con forma a forma di cespuglio è vero che se viene votata ripetutamente si riesce anche ad ottenere un tronco o uno o più tronchi quindi polloni principali però di base e tende a ricacciare sempre nuovi polloni e questa qui in tartuficoltura almeno nella tartuficoltura nazionale italiana è una problematica dovuta all'ombreggiamento dei pianelli spesso le tartufaie con sesti in pianto che presentano tanti noccioli tendono a convertirsi soprattutto per quelli che impiantano nero preciato al nero preciato al moscato al brumale a quei a quei tartufi che prediligono l'umida e terreni un po più umi rispetto al nero preciato come abbiamo già detto nelle altre dirette vuole terreni particolarmente trenanti assolati è chiaro se fai ombra con la chioma perché viene un cespuglio grande non vengono fatte potature questo è è l'effetto che si ottiene allora una cosa curiosa è che il nome corilus avellana allora corilus vabbè dal greco io tra l'altro ho fatto liceo scientifico quindi non sono neanche ferrato in greco significa elmo questo l'ho imparato da poco anche io però il discorso avellana invece l'ho sempre saputo e deriva d'avella che è un comune della provincia avellino perché sin dall'antichità i romani conoscevano queste zone come un areale molto ricco di noccioli già i romani utilizzavano il nocciolo come pianta frutto e consumano le nocciole quindi questa è una nota di storia simpatica e comunque anche i romani non so se le coltivassero ma le conoscevano e si cibano i nocciole allora senza andare troppo nel dettaglio botanico la nocciola è quasi impossibile da non riconoscere prima cosa perché fa le nocciole tutti conosciamo le nocciole ho riportato delle foto in vari stati di maturazione e la nocciola quindi il frutto della pianta del nocciolo è avvolta da una guaina che può sembrare una foglia che in gergo tecnico viene chiamata vengono chiamate bratte e quando la nocciola matura tende a cadere in alcuni casi con questa guaina in alcuni casi si libera e le bratte restano attaccate alla pianta la foglia della nocciola è una foglia caratteristica è molto tenera e verde infatti spesso viene attaccata anche da bruchi perché è una foglia molto tenera ed è una foglia che andandola a toccare chi conosce nocciole è quasi ovattata è una foglia morbida tenera quasi ovattata perché come se fossero delle delle sottosità e adesso senza andare nel dettaglio comunque sia le nocciole sono molto molto utilizzate in gastronomia soprattutto in pasticceria poi davide da buon più non più non davide non è piemontese però vive in piemonte quindi da piemontese adottato sa che insomma con le nocciole si fanno le si fa la cianduglia si fanno i ciandugliotti facilità ma e tante cose buone quindi oltre tartufi la nutella la nutella adesso non voglio entrare al cioccolato esatto non voglio entrare nel discorso commerciale tra l'altro la nocciola il nocciolo è una tra le piante più coltivate del mondo proprio perché questi signori che producono questa crema che ha che ha citato davide spalmabile stanno praticamente colonizzando anche l'africa per fare per coltivare le nocciole da mettere da mettere dentro la nutella adesso stanno provando a darsi una ripulita sponsorizzando nocciolette in l'italia ma vabbè non è comunque io penso che io penso che l'ottanta 85 per cento della produzione mondiale le nocciole se la pappino loro comunque è comunque tanta ne usano stiamo parlando di numeri di numeri grandi e i noccioletti anche spontanei spesso si si scoprono delle buone tartufaie quindi non è detto che vada fatta per forza una piantacione micorrizzata spesso i noccioletti si vanno a micorrizzare da soli di di tartufi di tartufi preciati al nord italia principalmente con il bromale nelle zone nostre con nelle zone del centro italia con il bromale ma di più con il nero con il nero estivo piuttosto che con il bromale comunque il nocciolo una pianta molto importante anche perché quelle qualità che abbiamo detto che nelle piantazioni coltivate nelle tartufaie coltivate crea dei problemi quindi la sua il suo abitus di pianta superiore che tende a esprimersi in forma in forma di cespuglio per altri tipi di tartufi come ad esempio per il tartufo bianco per il tuber magnatum pico un punto di forza quindi quando si trova nei fondovalle in zone molto adombrate con il terreno con le caratteristiche di chimica quindi di scala del ph giuste con la giusta capacità di trattenere l'acqua e quant'altro tutte cose che stiamo ripetendo che già abbiamo detto nelle dirette scorse quando abbiamo trattato la monografia le monografie e nel dettaglio del tartufo bianco quando si vanno a palesare tutte queste cose il nocciolo comunque una buona pianta che si micorrizza con il tartufo bianco e questo suo essere di cespitosa gli dà la la possibilità di creare quell'ombra che poi il tartufo bianco proprio cerca quindi mentre in alcuni casi per determinati tipi di tartufi come per il tartufo nero preciato questo suo manifestarsi come cespuglio è negativo per il tartufo bianco invece è una cosa più che positiva anzi da ricercare vado avanti c'è qualche domanda davide qualche domanda innanzitutto vabbè c'è ros che ci chiede di mettere poi le schede anche nella descrizione di youtube perché non a facebook sarà fatto busillabi ci chiede qual è l'importanza delle comari sono necessarie possono anche non esserci grazie roberto che dici cos'è una comare innanzitutto che non la pianta comare la pianta la definizione pianta comare è quell'essenza arboreo arbustiva che predilice gli stessi ambienti dove si manifestano sia i tartufi che le piante tartuficine ma sono essenze arboreo arbustive piante con cui il tartufo il fungo ipoiceo fungo ipiceo chi che sia non stringe simbiosi direttamente quindi una pianta comare è una pianta che condivide lo stesso habitat del tartufo ma che non entra in simbiosi con il tartufo per fare un esempio molto calzante l'ulivo è una pianta comare nel caso del tuber melanosporum vittadini negli uliveti ai margini degli uliveti dove ci sono roverelle elci cerri o piante che entrano in simbiosi e si trova il tartufo ma non si trova il tartufo sotto gli olivi comunque si sono un buon segnale ma non sono necessarie cioè ci possono essere tartufi anche in loro assenza se ne vediamo possono accenderci un campanello in più per andare per avvicinarci a quella pianta piuttosto che un'altra allora si accendono un campanello fanno accendere un campanello non ci dimentichiamo mai che le piante riescono a palesarsi a vivere a nascere a crescere in una versatilità molto più alta rispetto al tartufo quindi un cerro nasce nel terreno che piace al tartufo nasce nel terreno che non piace al tartufo quindi il discorso è bene conoscere le piante tartuficine bene conoscere le piante comari ma la conoscenza vera per andare a scovare nuove tartufaie è un mix di fattori che si devono andare a prendere si devono andare ad apprendere gradualmente studiando seguendo le dirette seguendo i consigli degli esperti dei micologi della gente che fa questo di mestiere e poi avere un'esperienza anche sul campo per andare a capire che quel sito è potenzialmente una tartufaia oppure no c'è un esempio da fare oggi stavo facendo una simulazione al tartufo con il mio cucciolo di curzar muschio e ho nascosto un tartufo di addestramento in un in un fossetto in un canale dove c'erano tutti i pioppi un salice tutta etera ho detto ma tu guarda qui tocca che c'è torno tra l'altro stavo nel lazio bisogna che c'è torno a cercare il il bianco perché sembra proprio dipinta sto sto fosso vado a mettere giù il banchino per fare la buca per nascondere il il tartufo terra nera che sembra di stare sull'etna e allora c'era la pianta c'erano le piante c'erano le piante comari le etera quello che è vai a vedere la terra era nera ricchissima di terra bruna praticamente tutto humus zero argilla molto molto drenante lì il tartufo bianco è impossibile che ci adesso scusate impossibile micologia non esiste ma poco probabile probabilmente se lo trovo chiamo un esperto dell'università per fargli fare la foto perché è un ritrovamento quasi unico insomma da luca maioli che ci chiede visto che stiamo parlando di terreni vuole impiantare una tartufaia all'odi e chiede se è possibile sostanzialmente correggere un terreno non idoneo allora come come si chiama chi ha fatto scusa come si chiama il il signore che ha fatto la domanda vabbè comunque sia allora una tartufaia all'odi e correggere il terreno allora questa cosa mi fa mi fa pensare abbiamo avuto un problema con una con la spira cenere della stufa ok spero sia risolto no dicevo questa questa richiesta questa richiesta questa domanda mi fa pensare ad un non a una non ad un aneddoto ma una cosa reale successa non con il tartufo con il vino eh per i grandi vini di bordeaux in Francia eh i premier Grand Cru Classe secondo la classifica di Medoc del 1855 sono un numero limitato e il il barone Philippe de Rothschild non poteva accettare che una sua vigna eh la vigna che da lo Chateau Mouton Rothschild eh fosse non fosse premier Grand Cru Classe ma fosse classificata d'Oxiem mi sembra allora che cosa ha fatto dato che il terreno era povero di ossido di ferro è andato nel sud della Francia dove fanno i Cramant Cramanda Limon a sud dei Pirenei ha preso autotreni sototreni di terra di cava rossa diremmo la terra con cui si fa il tartufo nero braciato in Orcia in un'altra diretta magari e ha preso ha preso ha preso ha cosparso tutti i vigneti tutta questa terra rossa ha aspettato anni con le piogge e dopo n anni che ha speso non si sa quanti milioni e milioni di euro per fare sta cosa parliamo di miliardi di franchi per milioni di franchi perché all'epoca non c'era l'euro alla fine hanno fatto la verifica e rientrava nei criteri e gli hanno dato penso per l'unica volta nella storia di tutta la Francia è passato da Deuxième a premia Grand Cru Classe negli anni 70 adesso il barone Philip de Rothschild penso i Rothschild sono una tra le famiglie più ricche del mondo ha fatto questa cosa per prestigio per investimento probabilmente ci avrà anche guadagnato adesso mutatis mutandis e andando a parlare non di vino ma di tartufo sinceramente se un sito non è vocato io direi andiamo a utilizzare per delle cose per cui è più vocato per altri genere di piantacioni se non è votato per un gap piccolissimo quindi per dire adesso non sono un esperto di tartuficoltura ma c'è un parametro di alcalinità e che con una minima correzione si riesce a fare uno un tentativo lo può fare però non so se il gioco vai alla candela perché già il tartufo è una grande incognita che uno va in un tartufo in un terreno vocato lo pianta e non è detto che e non è detto che gli venga nonostante le percentuali negli ultimi anni di riuscita siano molto buone e molto alte anche grazie a dei vivaisti serie che danno le piante giuste e danno suggerimenti giusti in merito al al terreno e a quale genere di tartufo si possa esprimere però io mi sconsiglierei di sconsiglierei di fare degli interventi perché potrebbero essere soltanto una spesa quindi magari ecco pensare di investire quel denaro nello specifico manca calcare cioè manca calcare quanto calcare manca e andare a prendere a spargerci il calcare su un terreno potrebbe essere come andare a mettere gocce d'acqua con un contagocce nell'oceano quindi alla prima pioggia quel calcare quanti metri va sotto quanto bisogna riportarcene non sono un esperto di queste cose però ecco io per quella comunque abbiamo capito il il concetto dario insomma settimana scorsa sono stato da vellino al raduno della goto club è pieno di noccioli in ogni angolo ora mi spiego ok puoi proseguire sergio benissimo allora il non ciò l'abbiamo fatto ok andiamo su una pianta che è molto importante per la tartuficoltura era il carpino nero allora il carpino nero almeno nel centro italia e nel settore della tartuficoltura ha una rilevanza al pari di quella delle piante a genere quercus quindi della roverella e del leccio che sono le due piante più utilizzate in tartuficoltura il carpino nero una pianta che quando è micorizzata e si trova in un terreno avvocato tende ad esprimersi molto molto bene sul tartufo nero preciato di norcia sia al naturale che in tartuficoltura rispetto al alle cucine piante del genere quercus tende a dare scusate tartufi molto più numerosi e di dimensione un po più contenuta rispetto all'elcio e alla roverella che tendono a dare un po meno tartufi di dimensioni più più grandi questo chiaramente a livello statistico non parliamo mai di casi di casi specifici perché poi ci sta quello che c'è il carpino suo fantastico che fai tartufi mezzo chilo e quello che c'è il leccio che fai tartufini piccolini quindi diciamo che parliamo sempre per diciamo con facciamo discorsi di rilevanza insomma la bibliografia è statistica e il carpino nero l'ostria carpinifolia è una pianta che predilice degli ambienti un pochettino più umidi rispetto a roverella alle piante del genere quercus però non così umidi da non consentire la manifestazione dei dei tartufi neri e del tartufo nero preciato vostra carpinifolia è talmente tanto diffuso nella penisola italiana che i boschi di macchia mediterranea o di boschi appenninici vengono chiamati ostreti i boschi misti vengono chiamati quello uno stretto perché la maggior parte delle piante sono dei carpini quindi o stretto quando uno quando uno sente quello che bosco è è uno stretto o stretto vuol dire che un bosco a prevalenza carpini nello specifico carpini neri e la foglia del del carpino nero è molto caratteristica le foglie sono ovali e sono tutte seghettate anche hanno una nervatura molto importante quindi non è soltanto il margine seghettato ma sono praticamente nervate in maniera molto evidente e hanno queste costole molto molto marcate che anche alle immagini che ho riportato si si notano si notano subito è diffusa fino a circa i 1200 metri e come abbiamo detto è molto importante per per il per il tartufo perché almeno nelle Marche e in Umbria è una pianta che fa delle ottime micorrizze con il tartufo nero bracciato di Norcia e che adesso negli ultimi anni è venuta una malattia per cui viene anche sconsigliato di di piantarne le tartufaie però quelle che si salvano a questa malattia che fa morire i carpini sono delle ottime tartufaie io insomma ne vengono in mente alcune che ho frequentato anche ultimamente di tartufaie nero bracciato i carpino nero sono delle ottime delle ottime tartufaie domande Davide precisazioni procedi procedi procedo benissimo se avete domande qui di fianco fatele non vi riducete poi l'ultimo momento se avete delle cose da chiedere che poi chiudiamo la diretta e purtroppo non riusciamo a rispondere comunque abbiamo il gruppo su facebook su cui taggandoci potete comunque avere delle risposte ma se avete delle domande fatele durante la diretta io ho visto che abbiamo superato abbondantemente la metà vi ricordo anche che se non siete iscritti al canale fatelo almeno riceverete le notifiche dei prossimi video cliccando sul punto d'antoneco sotto iscriviti e che potete già lasciare un like se il contenuto vi sta piacendo lo trovate utile cliccando sul pollicione in su sotto il video questo aiuterà a far circolare i nostri contenuti a voi costa veramente un secondo e a noi fa molto 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 piacere vai sergio procedi pure allora chiudiamo la diciamo la diretta con il con il tiglio il tiglio è una pianta molto molto importante per le micorrize che stringe con i tartufi nella fattispecie con il tartufo nero estivo e con il tartufo bianco il tiglio tra l'altro quando si parla di tartufo bianco è la pianta che tende a dare il tartufo bianco da bibliografia più profumato e più apprezzato ai fini gastronomici è famoso il tartufo il tartufo bianco di tiglio e gli estimatori del tartufo lo riconoscono anche grazie al 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 peridio che è nettamente di tonalità più marcate e decise rispetto a quelle del tartufo bianco di tiglio ecco è molto simile al tartufo bianco di di quercia o di salice che c'ha delle tonalità del peridio molto più giallo tenendo al giallo scuro spento piuttosto che il giallo chiaro tendente al bianco come il peridio del tartufo bianco di di pioppo e il tiglio è molto importante per il tartufo bianco e anche per il tartufo nero estivo allora una cosa curiosa sul tiglio è che come abbiamo già anticipato tende molto ad ibridarsi il tiglio più diffuso che tra l'altro non so al nord ma al centro italia e penso la pianta più diffusa nei viali nei viali cittadini e tra l'altro ci sono casi in cui nei viali cittadini ne ho trovato tartufi bianchi anche i notevoli anche i notevoli dimensioni guardi che noi qui dalle mie parti ce n'è una lungo la strada addirittura tabellata ah sì che sì c'è un parcheggio e il il lungo strada tabellato ma tabelle valide o valide valide vanno sono tra l'altro è un campo sportivo comunale quindi ogni anno ogni due anni adesso mi ricordo il comune la mette a bando quindi è proprio adesso non so se siano legali perché sono proprio a bordo strada ma sono valide sicuramente se nessuno ricorre a fare i corsi strani è simpaticissima questa cosa io sapevo leggendo un libro quando ero ragazzino non so è un libro di quelli sui tartufi vecchia data non ricordo neanche il titolo c'erano talmente tanti in cui era scritto che nel parco nei giardini pubblici di Ravenna c'erano dei tigli che facevano delle produzioni importanti di tartufo bianco ed era una cosa insomma riportata anche a livello bibliografico adesso se c'è qualcuno di Ravenna Romagnolo che ci segue che ci può confermare però mi ricordo nitidamente di questa di questa informazione quindi quando andate la domenica pomeriggio con le vostre moglie o con i mariti a fare una passeggiata in un viale di portatevi il cane perché le sorprese possono possono arrivare tra l'altro nei nei giardini pubblici della città da cui vengo io adesso senza fare troppa pubblicità ci sono tigli micorizzati tubo restivo invittadini io ne ho trovati moltissimi adesso hanno messo i cartelli che vi è dato entrare con i cani quindi non ci sono più andato però ci sono tigli micorizzati molto molto bene con il tartufo nero estivo allora il tiglio che diceva a faenza siamo pieni di tigli in città ah si vedi dove c'è il terreno bianco argilloso bello che trattiene l'umidità perché con i tigli non si scherza poi quando li fanno li fanno belli grossi profumati fanno belle bombe i tigli belli profondi fanno anche penare perché i tigli hanno delle radici che tendono a andare parecchio in profondità e quindi non è il tartufo il tartufo bianco trovato sul pioppetto pioppettino piccolino che è a 20 centimetri e 15 centimetri lo trovi sui tigli come su le ruve le querce e quant'altro puoi fare buche anche i 60 70 centimetri allora chiudendo con i tigli allora il tiglio signori è una di quelle piante che non potete non riconoscere e una pianta molto semplice da riconoscere a partire dalla corteccia c'è questa corteccia con delle costolature molto fini che di colore grigio brunastro e solitamente proprio per il fatto che i tigli sono tigli in parchi o comunque sia ai limiti cittadini sono sempre ben potati quindi i tronchi sono belli a colonna e la foglia è una foglia molto molto verde che è molto presenta delle seghettature alla caratteristica forma diciamo lanciata che ricorda un pochettino un cuore e una cosa molto importante che il tiglio profumatissimo le inflorescenze dei tigli nel mese di giugno se uno esce la sera a fare una passeggiata inebriato dall'odore dei tigli quando si sente quell'ottimo profumo di fiori la notte di giugno c'è un'altissima probabilità che si sta sotto un tiglio allora se ti metto una domanda in sovraimpressione riesci a leggerla che è un po' tecnica comunque Carlo viotti davide è il più visto che ha portato via i miei tigli no non c'è sono innocente no non so di che tigli a che tigli tu faccia riferimento che comunque sono innocente non ho tigli meco te la metto te la leggo ciao un terreno franco da subalcalino alcalino povero di sostanza organica capacità di scambio catonico medio c slash n mineralizzazione veloce per il bianco com'è capacità guarda letta così non ti so non ti so aiutare sarebbe da leggere la tabella dell'analisi del terreno per confrontarla con quella con quella letteratura con i parametri del bianco però le vista così non non c'ho non c'ho la non c'ho il tatto di di che parli che quali parametri parliamo quindi è come dire tutto e niente insomma va bene rossa ravenna nei parchi tanto bianchetto di pino allora vengo a ravenna domenica a tartare dice solo di posti di bianco in zona industriale dove c'è il naviglio adesso non diciamo troppo che sennò poi qua ci scopriamo ci scopriamo se no facciamo i dirottatori diciamo ah lì ce ne sono tantissimi e poi noi andiamo almeno tutti lì vanno potrebbe essere un esperimento un esperimento sociale interessante ma la prima soggio ciao chi c'ha la passione nostra davide queste cose conosce bene dirottamenti dei pistaggi per sentire i tartufo messi in tartufaia che non fanno sì 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 ci sono dei video interessanti eh Sergio tu hai un'altra slide siamo arrivati in fondo no le siamo arrivati in fondo questa sera per approfondire meglio queste queste era era la prima la in realtà la seconda puntata la prima era stata sul genere Quercus e ne ne faremo ne faremo altri ecco carlo dice dalle mie parti ci sono parchi di tigli che davano per bene ma qualcuno in comune penso ha dato diserbanti e prodotti antifunghi e non ne sono più visti solo moscato eh aia non è non è bello non è bello eh allora prima di salutarvi io vi volevo dire che lunedì prossimo eh anziché la solita diretta con con Luigi Di Bacco ci sarà Luigi Di Bacco ma avremo anche come ospiti Fabio Cerretano presidente della FNATI e la Federazione Nazionale Tartufai e Antonello Branca Antonella Branca d'Oro della direttrice di Città del Tartufo e vi presenterò un po' questi due persone che se non le conoscete vi porteranno due realtà molto molto interessati quindi lunedì prossimo alle 20 e 30 una diretta un po' un po' speciale con 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 degli ospiti eh Sergio se siamo arrivati in fondo io ti farei saluto e ti lascerei andare a mangiare perché ti vedo ti vedo digiuno sì sono un po' deperito ti vedo deperito e digiuno quindi ti lascerò andare a a mangiare io invece andrò verso il sonno ringrazio tutti quelli che sono stati qui con noi e con Sergio ci vediamo mercoledì prossimo e la prossima diretta invece starà lunedì sempre alle 20 e 30 qua sul canale di Truffle Academy ciao a tutti e buonanotte ciao Sergio grazie buonanotte buonanotte a tutti ciao grazie ciao ciao